Già con squadra siamo parlati che vado in fuga, quindi sì, sono stato bravo, prendo la fuga e che è arrivata. Sono molto felice perché provavo già tante volte questo anno che in fuga è uno altro e adesso è arrivata la mia prima vittoria nel giro e così è ancora più bello. Cosa ti diceva Maini in radio che sta arrivando con Tadoraro e tutti? No, ma io non sentivo perché era troppo dietro con Marco, in macchina, ma Marzano mi ha detto stai solo fai pedalare concentrato e non pensi in Tadoraro perché avevo due minuti, tre chilometri all'arrivo, quindi anche strada un po' non è stata più dura la salita, quindi ho fatto il massimo che avevo e vittoria è arrivata.